Il cane di terracotta di Andrea Camilleri. Arrivarono silenziosi, dopo manco mezz'ora della telefonata parevano di normale pattugliamento, scesero dall'auto e si diressero verso Montalbano che fece loro signo di seguirlo. Si radurarono dal re a una casa mezzo distrutta, così dalla provinciale non era possibile vederli. In macchina hai un mitra per lei, disse Fazio. Mettitelo in culo, stammi a sentire, se ci sappiamo giocare bene la partita, capace che ci portiamo a casa Tanu Greco. Materialmente Montalbano percepì che i suoi uomini avevano smesso per un attimo di respirare. Tanu Greco da queste parti, si meravigliò Fazio che si era ripigliato per primo. L'ho visto bene e Iddu, si è lasciato criscire barba e baffi, ma se ricanusci lo stesso. E lei come l'ha incontrato? Fazio, non rompere, ti spiego tutto dopo. Tanu è in una casuzza in cima a quella montagnola, da qua non si vede. Torno torno ci sono olivi saraceni. La casa è fatta di due cammare, una sopra e una sotto. Sul davanti ci sono una porta e una finestra, un'altra finestra è nella camera di sopra, ma da sul retro. Mi spiegai? Avete capito tutto? Tanu non ha altre strade per Nesciri se non quelle davanti, oppure deve buttarsi alla disperata dalla finestra della camera di sopra, capace però che si stocca una gamba. Facciamo così. Fazio e Gallo vanno nella parte di Darre. Io, Germana e Galluzzo sfondiamo la porta e trasemo. Fazio si fece dubitoso. Che c'è? Non sei d'accordo? Non è meglio circondare la casa e dirgli da rendersi. Siamo cinque contro uno, non ce la può fare. Sei certo che dintra la casa non ci sia nessuno in semmo lattano? Fazio è un muto lì. Sentita mia, fece Montalbano, concludendo il breve consiglio di guerra. Meglio che ci facciamo trovare l'ovo di Pasqua con la sorpresa. Montalbano calcolò che da cinque minuti almeno, Fazio e Gallo si dovevano essere appostati dal re la casuzza, in quanto a lui, stennicchiato a panza per terra e in mezzo all'erba, pistola in pugno con una pietra che gli premeva fastidiosamente proprio sulla bocca dello stomaco, si sentiva profondamente ridicolo. Gli pareva ad essere diventato un personaggio da film di gangster e non vedeva perciò l'ora di dare il segnale di sare il sipario. Tagliò Galluzzo, che gli stava dal lato. Germana era più lontano, verso destra, e gli spiò sussurrando. Sei pronto? Sì, sì, rispose la gente, che si vedeva era tutto un fascio di nervi e sudava. Montalbano ne ebbe pena, ma non poteva certo andargli a contare che si trattava di una messa in scena, dall'esito dubbio, è vero, però sempre di cartone. Vai, gli ordinò. Come lanciato da una molla compressa allo stremo, quasi non toccando terra, Galluzzo con tre salti arrivò alla casuzza. S'appiattì contro il muro a manca della porta, parse non avere fatto faticata, però il commissario gli vide il petto che s'alzava e s'abbassava per il respiro affannato. Galluzzo impugnò bene il mitra e fece signo al commissario che era pronto per la seconda parte. Montalbano allora tagliò verso Germana, che appariva non solo sireno, ma addirittura rilassato. Io vado, gli disse senza suono, muovendo esageratamente la bocca e sillabando. La copro io, ha rispose Germana allo stesso modo, indicando con un movimento della testa il mitra che teneva fra le mani. Il primo balzo in avanti del commissario fu, se non da antologia, minimo da manuale. Uno stacco da terra deciso ed equilibrato, degno di uno specialista di salto in alto, una sospensione d'aerea lievità in atterraggio netto e composto che avrebbe meravigliato un ballerino. Galluzzo e Germana, che stavano a tagliarlo da diversi punti di vista, ugualmente si compiacquero per la prestanza del loro capo. La partenza del secondo balzo fu calibrata meglio della prima. Nella sospensione, però, successe qualcosa per cui di colpo Montalbano, da dritto che era, si inclinò di lato come la torre di Pisa, mentre la ricaduta fu un vero e proprio numero da clown. Dopo aver oscillato spalancando le braccia alla ricerca di un appiglio impossibile, crollò pesantemente di fianco. Istintivamente Galluzzo si mosse per portargli a densia, si fermò a tempo, si rimpiccicò contro il muro. Magari Germana si sussì di scatto, poi si riabbassò. Meno male che la cosa era finita, pensò il commissario, altrimenti Tano avrebbe potuto in quel momento abbatterli come pirilli. Sparando i più sostanziosi santioni del suo vasto repertorio, Montalbano Carponi si mise a cercare la pistola che nella caduta gli era scappata di mano. Finalmente la vide sotto una troffa di cocomerelli serbatici e appena cicalò in mezzo il brazzo per ripigliarla, tutti i cocomerelli scoppiarono e gli inondarono la faccia di simenza. Con una certa rabbiosa tristezza, il commissario si rese conto di essere stato degradato da eroe di film di gangster a personaggio di una pellicola di Gianni e Pinotto. Oramai non se la sentiva più né di fare l'atleta né di fare il ballerino. Percorse perciò i pochi metri che lo separavano dalla casuzza a passo svelto, stando solo tanticchia a gomitolato. Tagliandosi negli occhi, Montalbano e Galluzzo si parlarono senza parole e si misero d'accordo. Si piazzarono a tre passi dalla porta, che non pareva particolarmente resistente, tirarono il fiato e vi si scagliarono contro con tutto il peso dei loro corpi. La porta si rivelò essere fatta di carta velina o quasi, sarebbe bastata una manata a farla cedere, perciò i due si trovarono a essere proiettati all'interno. Il commissario arrinisci a fermarsi miracolosamente, invece Galluzzo, portato dalla violenza della sua stessa spinta, attraversò la camera intera e andò a sbattere con la faccia contro il muro, scugnandosi il naso e restando mezzo assurficato dal sangue che aveva pigliato a sgorgare violento. Alla scarsa luce del lume a petrolio che Tano aveva lasciato addumato, il commissario ebbe modo da ammirare l'arte di attore consumato del greco. Fingendosi sorpreso nel sonno, balzò in piedi gridando bestemmi e si precipitò verso il Kalashnikov, che ora stava appogliato al tavolo e perciò lontano dalla branda. Montalbano fu pronto a recitare la sua parte di spalla, come viene chiamata in teatro. Fermo, in nome della Ligi, fermo o sparo, gridò con tutta la voce che aveva e sparò quattro colpi verso il soffitto. Tano si mobilizzò, le brazze alzate, persuaso che nella camera di sopra ci fosse ammucciato qualche d'uno. Galluzzo sparò una raffica di mitra verso la scala di legno. Da fuori Fazio e Gallo, a sentire tutta quella sparatina, aprirono un fuoco di scoraggiamento contro la finestra. Tutti dentro la casuzza erano rimasti intronati dai botti quando arrivò Germanà a metterci il carrico di undici. Fermi tutti o sparo! Non ebbe manco il tempo di finire la minacciosa intimidazione che si trovò spinto alle spalle da Fazio e Gallo, costretto a intrupparsi tra Montalbano e Galluzzo, che posato il mitra aveva tirato fuori dalla sacchetta un fazzoletto col quale cercava da attagnarsi il naso. Il sangue gli aveva allordato la cammisa, la cravatta, la giacchetta. Gallo, a vederlo, si nervosi. Ti ha sparato? Ti ha sparato, eh, quel cornuto? Fece arraggiato voltandosi verso Tano, che se ne stava sempre con santa pacienza, con le vrazza isate, in attesa che le forze dell'ordine facessero ordine nel casino che stavano combinando. No, non mi sparò, sbattì contro il muro, articolò malamente Galluzzo. Tano non tagliava a nessuno, considerava la punta delle sue scarpe. Gli venite a ridere, pensò Montalbano, e dedia un ordine secco a Galluzzo. Ammanettatelo. E lui, spiò a bassa voce Fazio, e lui non lo riconosci, disse Montalbano. Che facciamo ora? Mettetelo in macchina e portatelo alla questura, a Montelusa. Strada facendo, chiami il questore, gli spieghi tutto e ti fai dire cosa dovete fare. Cercate che nessuno lo veda e lo riconosca. L'arresto deve per ora restare assolutamente segreto. Andate. E lei? Io do una tagliata alla casa, la perquisisco, non si sa mai. Fazio e gli agenti, tenendo in mezzo Tano ammanettato, si mossero per uscire. Germana teneva in mano il Kalashnikov del prigioniero. Solo allora Tano greco isò la testa e tagliò per un attimo Montalbano. Il commissario s'addunò che lo sguardo di statua era scomparso. Ora quegli occhi erano animati, quasi ridenti. Quando il gruppo dei cinque, al termine del viottolo, scomparve alla vista, Montalbano rientrò nella casuzza per cominciare la perquisizione. Infatti, raprì la credenza, pigliò la bottiglia di vino che era ancora china a metà e se la portò all'ombra d'un livo, per scolarsela tutta in santa pace. La cattura del pericoloso latitante era stata felicemente portata a termine. Mimì a ugello, che pareva pigliato dal diavolo, appena vide comparire Montalbano in ufficio, se la batte davanti per porco. Ma dove sei stato? Dove ti sei andato ad ammucciare? Che fino hanno fatto gli altri uomini? Ma ti pare modo di fare buttana da una buttana? Doveva essere veramente arraggiato per mettersi a parlare spartano. Da tre anni che travagliavano assieme, mai il commissario aveva sentito il suo vice dire parolazze. Anzi no, quella volta che uno stronzo sparò nella panza di Tortorella aveva reagito allo stesso modo. Mimì, che ti piglia? Come che mi piglia? Mi sono scandato o mi sono? Ti sei spaventato? E di che? Qua hanno telefonato almeno sei persone. Contavano sempre cose diverse nei dettagli, però tutte concordavano nella sostanzia. Un conflitto a fuoco con morti e feriti. Uno parlava di carneficina. Tu non c'eri a casa. Fazio e gli altri erano nisciuti con la macchina senza dire niente a nessuno. Ho pensato che due e due facessero quattro. Avevo torto? No, non avevi torto. Però non te la devi pigliare con me, ma col telefono. È sua alla corpa. E chi ci trase il telefono? C'entra e come? Perché oggi il telefono si trova magari nel più perso pagliaro di campagna. E allora che fa la gente che ha il telefono a portata di mano? Telefona. Conta cose vere, cose immaginate, cose possibili, cose impossibili, cose insugnate come nella commedia di Edoardo. Come si chiama? Le voci di dentro. Gonfia, sgonfia. E sempre senza mai dire nome e cognome di chi sta parlando. Fanno i numeri verdi dove uno può dire le peggiori minchiate di questo mondo senza assumersene la responsabilità. E intanto gli esperti di mafia si entusiasmano. In Sicilia cara l'omertà, cara la complicità, cara la paura. Non cara un cazzo. Aumenta solo la bolletta della SIP. Montalbà, non mi intronare con le tue minchiate. È vero che ci sono stati morti e feriti. Non è vero, nenti. Non c'è stato conflitto. Abbiamo sparato solo colpinaria. Galluzzo si è scugnato da solo il naso e quello si è arreso. Quello chi? Un latitante. Sì, ma chi? L'arrivo di Catarella, affannato, lo levò dall'imbarazzo della risposta. Tottori, ci sarebbero al telefono il signor acquistore. Poi ti dico, fece Montalbano, tuffandosi nel suo ufficio.